Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale Tiny Workout oggi vi abbiamo portato una sfida, una sfida molto bella quindi la prima parte l'abbiamo già girato sul canale di Fazio Workout il link è in descrizione vi invito a guardare la prima parte e poi guardare questo perché è la seconda parte l'abbiamo diviso in tutti e due i canali quindi ragazzi mettete like, condividete e iscrivetevi al mio canale mi raccomando, let's go! noizia noizia la questo è di forza è facilissimo ma tecnicamente vediamo come ho fatto io oscili bene ancora di più no uno vai ora mancano due il primo faceva schifo ma che fanno solo altri due poi tecnicamente la schiena come fai schiena me la do buono però si fa cosi non cosi torco tutto io non lo faccio vieni come sono dritto comparte mi cerca di fare un altro amore così te lo do buono un altro amore te lo do buono si già che pieghi le gambe è sbagliato devi collegare prendo il b ma che b ma ora così anche tu sbagli l'oscillazione deve essere di tutto il corpo io non faccio questo avete visto che piegati lì però per partire può così io col corpo blocco tutto il corpo si muove tutto insieme non faccio questo proviamo quindi così il culo si sta muovendo indietro così no a me interessa farli uno due però le stai facendo a modo tre non è non era come il mio però non era nemmeno orando come il tuo ah 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 basta passare un po' più in alto però non vale uno più in alto non vale due non vale non vale devi essere più in alto appena senti anche a te fanno una spinta enorme e vai anche te sei a due dita vabbè tre dai ma che tre non merdo però ti dico io tu non ti devi impegnare tanto lui fra un po' perde dai al prossimo giro al massimo ma lui ce la fa perchè lui ha un sort troppo no eh ah uscilla di più uscilla di più ancora più in alto no no è solo di panico ah 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 ma non vuoi capire che devi uscire tanto tu stai piegando ah 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 non ho detto di fare così mi piace hai piaciuto e io avrei pensato che non lo faresti va lo cambai che dobbiamo fare che dobbiamo fare faccio un po' da mai sei serio vabbè vai no 5 secondi di di quello lì no faccio puttana uno due tre quattro cinque ma lui c'ha una strada pulitizia non ce la fa in fondo è fatto di vittorie sconfitte l'importante è provare sì 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 vai 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 un fallimento serve a vaffanculo ma non vanno pulito ma pulito sta cazzo ma non ho meno la forza per farlo ma non ho meno la forza per farlo i due giorni di straddle devo fatica ci deve venire io mi vieni vai 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 la prossima no vabbè uno due però lui l'ha già fatto un secondo sei cattivo ma dai 5 secondi ero già lì ero ero anche due se non fai un leg pulso non so come fai straddle ma vabbè se non fai un leg pulso non so come fai straddle ho già perso due linee fai come me discorsi molto e io la migliore prestazione è stata quella di fallo S per cui fallo facciamo tutte a due manca il capo viene che tu fai il full game io lo faccio io boh dipende da chi l'ha fatto il posto ecco no 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 è uguale è uguale è uguale no non è uguale io se l'avessi fatto qui l'avrei nato 5 secondi eh infatti uno due tre quattro e cinque ah 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 archer push up è pull up eccoci ma quello è tag writer minchia io non lo so fare in quel modo due tre quattro ma quanto ne fai ma ma non dove scendere non voglio vedere gente così così vai vai non scendere ma non lo so fare non lo so fare a r non lo so fare a r vai 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 tocca a te tocca a te non lo so non lo so non lo so non è vero è r è andato in un video ma che dire vai dietro ma che bisogna non devo filmarti tocca a te e ho chiudere easy oh oh ma infatti c'è lui è il mio giumello perché ce ne è da immaginarlo 4 ah eeeh fai il burgo lui è bello questo o questo? e ti va fuori è finito il video e finisce anche il video passi dal perdendo il ritorno 1 1 2 2 3 4 non faccio schifo 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 quindi sono l'unico apri ancora vai ma è uguale tanto basta che quando va su 1 2 3 4 4 6 ma ancora altro ma ancora altro non è finito non è finito non è finito non è finito è finito mamma mia fallo 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 che cazzo fai? 1 2 3 4 4 basta devi esagerare se non perde esageraci vuole farmi perdere vai vai vuole farmi perdere dai 6 6 2 3 5 3 10 4 4 5 2 5 5 Ma oraAKE! Wow, wow, wow! C'è derivato a tremolo a tremolo A quel certo for tiny fai? Go! Go! Matteo! Non puoi. Cattolino è arrivata non arriva sei Oh, come on mu? R O VAR Non è un muo Tu sei un luo... Tu sei un luo? Tutte clean poids I ho???? Il mado il casino 4 Unsi ma Sì! Correggio! Sì! 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 Ah! Sì! Sì! Non è il ghiaglio! Vai, vai! Manca l'ultimo! Manca l'ultimo! Sta a suo fratello se lo sai fare! Nooo! Dai! Non vale! Tanto ora tocca a te! Ci abbiamo perso! Volendo potremmo vincere il video! Secondi? Tre secondi dobbiamo fare di... Alflay! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Cinque secondi! Ma che cazzo? No, no! Hai giotto tre! No, hai giotto tre! No! Apre le mano più! Chi ha giotto tre secondi? Secondo voi? Uno che non regge la strada... Che cazzo non provo a fare? Io non faccio un raise e basta! Guarda così! Guarda così! Guarda così! Ma è uguale! Ma che è uguale? Per me è impossibile! Vai! Uno, tre, quattro, cinque! Vale? No! Eh! Magari! Ho perso! Ora vai te! Tre! Quattro! Cinque! Per ora abbiamo un Barça! Un altro Barça! Un altro Barça! Non so perché non volevo fare il problema! Sì! Non so perché non lo so! Sì! Sì! Sei fuori! Abbiamo due Barça! Un Bar! E un Ba! Verde tu? Ba o Ba? Io e un Ba! Quindi lui ha vinto! Noi siamo perdenti! Sì! Sì! Vieni qua! Noi siamo... Ah! Sono fuori! Viva i perdenti! Viva i perdenti! Sì! Andiamo a picchiare! Andiamo a picchiare! Andiamo a picchiare i vincitori! Se questi video vi piacciono... Vedete like! Condividete! Alle due persone che guardano tutti i video! E se volete venerci noi due vincere la prossima volta... Dobbiamo arrivare a 100 likes! Sì! Io non faccio almeno 30! Dovete vincere per forza se si arriva a 100 likes! Sì! Ragazzi! Appena lo guardate cliccate like su! Eh? No! E niente! Basta! Sì!